Guarda questo video senza pubblicità, solo su The Show Plus, link in descrizione Non pretendere, sempre il resto Metto la monetina? Bravo, bravo Grazie amico Due euro mi sembrano troppi, perché per fare così sono capace anch'io No, sì, quella monetina va bene, se tu mi dici dammi un centimo qualcosa è va bene No, prendo il resto, prendo solo il resto Due euro, tieni, tieni Prendo un euro e cinquanta di resto, va bene? Se è chiaro Va bene, giusto, giusto Va bene? Non sono tirchio, è solo per... Che tirchi... A proposito di tircheria, è tirateli fuori sti 4,99 euro per The Show Plus Tra l'altro è appena uscita la seconda puntata della stagione conclusiva di Vita Nova Io ho già risparmiato un euro e cinquanta prendendolo dal... Ho preso il resto, voglio dire Comunque questa è una cosa da non fare E anche questa, e questa, e questa Direttamente dai nostri laboratori segreti Un team di autori ha sintetizzato il format in candid camera per affetto The Show e iRap presentano Cose da non fare Per questo episodio ci siamo rivolti a loro Gli eroi Che combattono lo spreco, l'inflazione e le bollette salate E che riescono anche a mettere da parte qualcosa a fine mese Chi sono loro? I tirchi La formula di oggi prevede cose che un tirchio non deve fare Non scroccare il fumo passivo C'è Starfield? No, 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 no il profumo, la sigaretta Sigaretta? Ma alboro? Buona alboro Questa qua? Vuoi assaggiare un po'? No, 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 io sono... Mi va bene il fumo passivo Ho appena fatto l'amore con le mie ragazze E volevo fumare una sigaretta Ma sono un po' tirchio Cioè non è che sono tirchio, se è chiaro Allora, metto, becco qualcuno che sta fumando E mi faccio due tirate Ah, butto, butto di qua, butto di qua, butto di qua, butto, butto Grazie Ragazzi, Alessandro c'è una gamba rotta Eh sì, Alessandro ha una gamba rotta E di questo avreste dovuto esservene accorti Immagino vi stiate chiedendo cosa sia successo Ecco, il punto non è la gamba rotta Il punto è che ha rischiato di morire Il punto è come ha rischiato di morire Sono finito sotto un cavallo Devo mettere qui Non mi operano Diciamo che abbiamo rischiato di perdere un The Show Sappiamo che siete preoccupati Ma Alessandro si sta lentamente riprendendo Voi mandategli un po' di affetto nei commenti E non preoccupatevi Appena potremo, vi mostreremo E racconteremo tutto Ora torniamo alle Candid E dato che non potevamo mettere Alessandro in un pacco Mamma, sto tornando a Lecce Sono contento e in grande rispolvero Torna a casa Non con l'aerio, ma Ciao, Valerio, si torna a casa Sono la post, chiudi, chiudi Si sta più comodi che sulla Ryanair Questa è poco possibile Buonasera Buonasera, devo fare questa spedizione qui Sì Mi dai una mano per cortesia Devo portarla Allora aspetti che? Allora aspetti che il grudino è alto Ok Prego Non so come Eccoci qua Lei deve spedire questo pacco? Sì Bisogna accendere Ah, bisogna pesare il pacco? È per forza In base alla dimensione Poi lo misuriamo per bene Sì, no, era sui 70 Di più no Perché passano sarebbe già uscito Comunque Sì, no, adesso lo Adesso lo chiediamo per bene Aspetta, aspetta signore Che do una mano Che è fragile Aspetta Cosa contiene? Vestiti Un po' di carne E un po' di roba c'è dentro Devo andare a giocare Fresca Non cotta Appunto Sì, sì, sì Carne diva Sì, fai sapere Un po' di ci metterò Per arrivare giù Ci mette 24 ore Però partirà domani Ah, con delle scarpe Con queste cose Cioè, sarebbe meglio Fare più scatoli Invece che una scatola Di queste È ragione Però il problema è che c'è un E poi il corriere Come cavolo lo scopo Però c'è un pezzo che No, perché c'è un pezzo Che non posso dividere Però se è un problema del peso Io posso togliere delle cose Le tolgo adesso E spedisco Allora, un attimo Sì, sì Non è che sono tirchio È chiaro È solo per una questione Di In teoria Non dovrebbe rendere lì Ok Allora io potrei Leggerirlo un po' E proviamo a dimezzarlo A questo punto E facciamo scusia Tanto qua Devo rimettere una roba Ma lei potrei togliere Le scarpe Per esempio Togliere magari Un po' giù Un secondo qua Sì, prego Eh, c'è no Per andare al sud Italia Ci costa 300 euro Adesso In questo periodo Ha detto Cavo Non è che sono tirchio Sia chiaro Però Non tirare troppo Lo sciacquone Porco Giuda Porco Giuda Porco Giuda Alessio L'acqua è un bene prezioso Ma soprattutto L'acqua costa Non sprecare la tua acqua Per tirare lo sciacquone Scroccala 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 E farei la firma Invece Da casa mia non capisco Non arriva Scusi Lei cosa sta facendo Di bello? Ripendo un secchio d'acqua Bravo Sì C'ho Scusi C'ho il batter Che non riesco Devo far scaricare il batter Scusi eh No, niente No, basta sapere Grazie mille Buon lavoro Rimpio ancora un po' che Mi riscappa Sì, guarda No, c'è Il tornato al Scusi Ne rimpio un altro Non glielo ho detto Mi perdoni È che No, le spiego Sto bevendo tantissimo In questo periodo Perché col caldo L'idratazione Giustamente Non è che sono tirchio eh Però l'acqua è condominiale Ogni volta che tiro l'acqua Scarico sempre come se facessi la grossa È di tanta acqua E mi scoccia a sprecare Non sono tirchio Voglio che sia chiaro eh Quindi Ok Grazie Giusto un po' la presa fredda Neanche calda Prendi il secchio pieno Sì, sì No, no, ma tanto adesso Ho fatto tre volte pipì da stamattina Quindi Grazie Grazie Buon lavoro Buon lavoro Buon lavoro Buon lavoro Buon lavoro Il bello Che scrive al bar All'angolo E' entrato anche lì Era in pieno secchio Praticamente sta riempendo secchi dappertura La libertazione importante però deve risparmiare il costo dell'acqua, mai sentita questa Riempio anche il mocio signora, così pulisco anche casa, grazie Sì sì, riempio il mocio da voi, grazie Vabbè, visto che siete gentili, pulisco anche casa, riempio anche il costo del mocio, così do anche una pulita per te Non è questione di tircheria No, è che stai rompendo le p***e del tuo papale Ma che scortese, vi ho chiesto No, ma sicuro Gentilissimi Gentili comunque E se anche voi volete approfittare dei vantaggi dell'idratazione, trovate in descrizione il link con il codice sconto dedicato alla community di The Show Le bottiglie Rapp e iPod che aggiungono gusto all'acqua, tutte scontate del 10% Che, so, per noi tirchi questo è oro che cola, eh Quindi mi raccomando, andate in descrizione, non tirate l'acqua, perché comunque l'acqua costa E andate a risparmiare, 10% di... cioè, 10%? Ciao Però le mani lavate, vale Non farti pregare il centesimo 5 euro, non posso spenderli tutti, ma voglio anche mettere qualcosa da parte Adesso facciamo i calcoli con calma Allora, partiamo Ci sto dentro, ci sto dentro nei 5 euro Andiamo? Signora, posso chiederle solo una mano? No, se me li batte al volo Grazie 4,99 Oh, ok, ci sto Grazie Eccoci No, mi sa che c'è un errore, signora Un centesimo non lo dà 4,99 5 euro In che senso? Manca il resto di un centesimo Non lo dà, centesimo Se lo tolgo, uno o due centesimi non lo dà Me lo dà lei? Non ci do Come faccio io adesso, scusi? Dove va, signora? Guarda che c'è uno che è fermo dell'automaggia Mi dà il centesimo Ma che comportamento è questo? Non è che sono tirchio, però Prego, le danno un centesimo Anche se non è Ah Grazie mille, gentilissimi No, perché capisci Un centesimo oggi, un centesimo mai Mille clienti sono 10 euro Mille punti vendita sono 10.000 euro 10.000 euro al giorno per un anno 365 Sono 3.650.000 euro all'anno Attenzione che non vi danno un centesimo di resto Però se insistete ve lo danno Guardate che tirchio Un 4,99 euro è altro che biscotti Ti guardavi la nuova puntata di Vita Nova Ti guardavi tutta la prima stagione Ti guardavi un sacco di altri video esclusivi su The Show Plus Che poi è la puntata con l'appuntamento su Tinder con la ragazza albanese Grande episodio questo, grande episodio Come mai Jaser è in compagnia di una bella ragazza Buona verità Nel bel mezzo di un appuntamento di Tinder Ok Sto andando allontanati dai miei pensieri Cosa ci fa in videocall per un colloquio di lavoro Messo tempera mi scompi E in che situazione è finito Ti fa vicino a questo Dentro la sua stessa casa Sei in metà, ti dai l'effetto La risposta è una sola Pita Nova La seconda stagione È già disponibile il secondo episodio Mi stai usando per dimenticare Della tesissima avventura di Jaser in Albania Mia Dove è stato costretto a fare ciò che non avrebbe mai pensato Che presso a me stesso Che senso Se tu vuoi baciare il ragazzo Non dai tipo di segnali Dove le cose possono cambiare da un momento all'altro Domani alle 7.30 si parte la scoperta di un'altra Albania Abbonati ora e guarda tutta la serie Inclusa la prima stagione Solo su The Show Plus Terzo livello Non portare la fidanzata a fare shopping Amore non farti scrupoli È il tuo compleanno Ti compro tutto quello che vuoi Vai tranquilla Vai tranquilla Entriamo qua Vai andiamo andiamo Buonasera Se gli chiedi cosa vuoi magari ti riesci a indirizzare Non lo so io cercavo una giacca in realtà Non solo questa Quella in vetrina? Anche sì Questa era Che bello Un po' coscietto Bellissima qua lì Per curiosità Quanto costava? 6 cento Ah 6 cento Ok C'è quella bianca quanto costava? Contro Sì sì Fai con calma Questa è una 697 Ok Non è che sono tirchio È solo per Farmi un'idea Com'è amore? Guardati Guardati qua Ti piace? Boccio Sì Non puoi provare anche quella bianca magari? Per curiosità È quella che hai visto prima Ha detto che c'era quella bianca Che ti piaceva? No Per curiosità ti provate anche questa Provala 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 Posso chiedermi a cortesia intanto? Quando uscirà? Diciamoli che ti sta meglio quella bianca Ok Proprio la tua ti sta bene Ti sta molto bene Ti salta Vai così C'è quella in giacca che ti costa meno In assoluto Quella è la più odata Un remasuri di magazzino Qua questo? È un cappello? Sì Ah È questo Com'è? Non lo so Proviamo? Cioè Guarda te Non ti sa mince Con me ti sta bene Queste due ti stanno bene Però questa sfida è alta Anche secondo me Io preferivo l'altra Però io mi fido di quello che dice lei Su me questa è davvero molto bella Però la ragazza diceva anche che Vieni Secondo lei Ti stava molto bene anche Guarda Non so se nel tuo stile Vieni Boh Ma io onestamente preferivo la giacca Però Proviamo Cioè Per me è top Ma poi lo mette su tutto questo qua Cioè Lo puoi sfruttare di più No scusa Era uno schermo Non rubare i fiori al cimitero Scusi Buongiorno Lavora qui? Sì Quanto costa un bel mazzo di rose? Da qua Le rose costano 3,50 Le metti 12 3,50 le rose dei morti? No queste sono roselline No vabbè ma Vado dentro magari Le prendo da una lapide Le raccolgo Tanto sono le stesse No le prenderanno qui Tu le prendi da una Le metti di là No ma devo Devo vedere una ragazza Con Tinder stasera Perché poi le butto Poi non so neanche se questa Poi ci sta o meno Quindi volevo Vado faccio un salto Adesso ne raccolgo Tanto secondo me le trovo Perché se voi avete il negozio qui Dov'è che le raccoglio? E dalle lapide Mi chino E le prendo E poi Non si può Ah non si possono Prendere No ma dopo che le hanno già usate Il parente va via E io Non si può Ma si può Prende anche una bella multa Vabbè voi fate finta Che non ci siamo mai vissi Arrivederci Buongiorno Lei lavora qui al cimitero Un'informazione C'è stato un funerale da poco Un funerale Un funerale Un minuto Grazie Gentilissimo Ah è il signore che ha tutto La lista Ma è video sorvegliato Il cimitero Tutto? Anche vicino alle lapidi? No Se rubi Perché Tu hai rubato i fiori No volevo prendere una rosa Una lapide Sì A volte c'è il fioraio Un euro Ma non è che sono tirchio Però non volevo spendere Un euro per una rosa Tanto voglio dire Io parente Metto la rosa Devi tu nella mia toga E ma con tutto rispetto Io ho chiesto a voi Proprio per evitare Che ci fossero i parenti Uno non lo sa Ma non si fa Il prescindere Vabbè ma occhio Non vede cuore Non duole Uno è morto Il parente Se me la compro di tua Ma va bene Che io scusa Mi vedo stati qua stasera Già le dovrò pagare la cena Però non so se poi alla fine Non lo so È per quello che non voglio pagare Cioè vorrei prendere una rosa Vabbè Campo 31 Puoi chiudere un occhio? Ma stiamo scherzando Ma vai fuori Trova una siepede E la strappa una rosa Vai in una villetta Beh è un po' incivile Strappare delle rose Incivile prenderle ai morti Che strappiamo Ma un morto mica soffende Mi serve magari un dito Ti strappa il dito Mica se ne accorge il morto Ma tu sei un ignorante Io non ti apro la testa Perché dentro non c'è niente Ma sarebbe Che ti apro Ti sputo dentro Non usare un cane Per rimorchiare Andiamo Nami Dai Andiamo dai Andiamo No Non c'è stai Nami no Scusa Era una cucciolotta No è bellissimo Andiamo Deve non usare ancora Ciao Non si muoveva T'ha visto Ed è subito Corsa Scopri Ok questa scena Non ve la facciamo Vedere tutta Non perché siamo Dirchi eh Sia chiaro Perché questa scena Fa parte di un altro Cose da non fare Quello in cui Abbiamo preso Un nano E abbiamo convinto La gente A metterlo in sella Ad un alano Dove ritornare a casa Con lei Quello in cui Ci siamo finti Noi I cani E abbiamo preso Un taxi Sono qui Sono qui Sono qui Abbiamo deciso Di marcare il territorio Solo per non avere Pongo tra i piedi No ma io devo Marcare Dovevo marcare Il territorio Non dovevo Fare la pipì Perché se no Pongo me la marca Lui se lo prende Lui sul territorio E qua O di non farci abbandonare Dai nostri nuovi proprietari Ti prego Un episodio tutto nuovo Che vi fa capire cosa significa avere un cane In calore E quando arriva Quel momento lì Di Mi ha detto che Devo tagliare Tutto Insomma Di tagliare via tutto Tutto questo è Cose da non fare Se vuoi adottare un cane E lo vedrete Al raggiungimento Di 50.000 like Sotto questo video Oppure subito Se siete abbonati Al terzo livello Di The Show Plus Vi basta cliccare Sul link in descrizione Abbonatevi ora Non siate dirchi E ora Reazioni Alla rivelazione No però sono un petino Perché scherzavo Lei non deve giustificarmi No no mi permetta di giustificarmi Vede questo ragazzo qui Che fa tanto simpatico C'è una videocamera qua Stiamo facendo degli scherzi Per un programma Era uno scherzo eh Te li do questi qua Ok va bene va bene Siamo di un canale Vede Lui aveva una videocameria No ma meglio Così lei un pochino c'è cascata Però è stata molto gentile Ma anche io in casa Non gli do i centesimi Ah neanche in casa Ah ma lei è proprio ricidiva Cioè lei non dà i centesimi Sì sì Purtroppo sì Mi è caduto un cavallo Sul piede Un cavallo Sai il McDrive Al Mc Donald Quando vai a prendere il panino Con la macchina Io sono andato a cavallo Io sono caduto Il cavallo è scivolato Mi è caduto addosso Doppia frattura al malleo Lo scomposta Mi hanno operato E sto in ballo Sto in ballo un pochino Ah lì c'è telecamera Anche là Anche là Vedi che c'è una telecamera Siamo di un programma Mi scusi È stata super gentile Cosa hai provato? Ho pensato che si vede proprio dei coi Ho pensato che si vede proprio dei coi